soluzioni di noleggio a lungo termine auto moto e bambini mobility solutions punto it si è una cosa che abbiamo tirato fuori l'oglio perché rischiavamo di uscire i ragazzi hanno tirato tutta ci hanno messo tutto perché la qualificazione ci avevamo a portata di mano anche se rischiavamo di uscire involutamente però sono contento oggi almeno penso che matematicamente siamo qualificati diciamo che ci ha messo ci metteva tutto l'anima però oggi ha tirato tutto perché la squadra non aveva scelta di parigiare o di perdere perché pareggio oppure una perdita significa uscire fuori da torneo lui oggi ha fatto tutto grazie a lui e grazie alla squadra che ha giocato come sanno giocare e siamo tranquilli oggi perché con differenza reti penso che ci qualifichiamo anche miglior come migliori tesi ma speriamo nella vittoria dell'international così possiamo approdarci al secondo posto